Abbiamo l'ordine dell'imperatore di occupare Romix. La ribellione dovrà restare solo uno spiacevole ricordo. È il momento per la 500esima legione. Cosa è cambiato per lei con la presenza dell'impero? C'è più controllo del territorio e è aumentato il traffico aereo. Direi che la burocrazia è stata semplificata di molto. Questa scena mi sembra di averla già vista. Grazie a tutti. Grazie per la visione!